Mi chiamo Mary O'Hara. Che cosa ci hai preparato? Torte tatin con banane. Mi dispiace, il prossimo? Io ci ho messo una vita a prepararla. Hai una bella faccia tosta. Io dico che voi non siete al livello della mia Mary. Così non mi aiuti, nonnina. Se tu passassi sui libri lo stesso tempo che passi con tua nonna o in cucina, saresti la prima della classe. Perché continui a incoraggiare Mary con quelle sciocchezze ai fornelli? Servirà qualcuno capace di cucinare in questa casa? Tieni. Me lo diede mia nonna. E ora io lo voglio dare a te. Sei bollente! Mamma! Perché nonnina è malata? Che cosa ti assilla? La mia nonnina sta male. È la vita, Mary. Chi ti ha detto il mio nome? Non è immaginaria. E allora dov'è? Mamma, lei è la mia nuova amica, Anastasia. Voi due potreste essere sorelle. Puoi regare un messaggio alla nonna da parte mia? C'è qualcuno che vorrebbe vederti. Ciao, River. Ora la riporti qui. Mi dispiace, ma è la scelta giusta. Oh!